eccoci qua salve a tutti oggi andiamo a fare un video su un prodotto che avevo comprato l'anno scorso l'altra estate e poi l'avevo messo da parte o mi sono dimenticato di fare il video quindi ve lo faccio quest'anno allora il prodotto è questo qui vedete avete indovinato che cos'è ve lo dico io allora questo qui praticamente è un prodotto che serve per riprodurre le piante quindi andiamo a prendere dove faccio vedere poi come si fa da un ramo facciamo fare le radici al ramo adesso vi faccio vedere come come si come si fa è molto semplice da utilizzare come primo passaggio andiamo a prendere una terra qualsiasi terra o in base a al tipo di pianta che che dobbiamo andare a riprodurre allora taglio la busta eccola qua poi andiamo a prendere la terra deve essere leggermente umida e l'andiamo a mettere in questo modo aspettate sennò sporco troppo ecco qua guardate un po' qui e un po' da quest'altra parte vedete ecco qui abbiamo riempito le due parti che poi vanno a chiudersi quindi poi che facciamo nella parte centrale dove ci passerà il ramo lasciamo un pochettino meno meno terra da fare tipo un canaletto per così allora adesso vi faccio vedere io vado a farlo su una pianta che ho lì che volevo riprodurla da un pochettino perché fa dei fiori bellissimi e vi faccio vedere allora la pianta è questa qui in questo caso perché ha una corteccia molto leggera non c'è bisogno da far nulla nel caso in cui c'è una pianta con un bel tronchettino una bella corteccia con un taglierino un coltellino andiamo a intaccarla un pochettino comunque è facile vedete questo qui io adesso che faccio vado a prendere il ramo lo metto qui chiudo le due parti aggancio il laterale eccolo qui schiaccio un pochettino anche se serve a poco e voilà adesso che faccio una volta ogni tanto metto l'acqua qui nella parte alta vedete poi riesce sotto ma non è un problema perché serve a mantenere la terra umida perché con la terra umida vengono più facilmente le radici con la terra secca è difficile che succede se lo fate con questo tipo di pianta mettete nella parte bassa dove trovate un getto in modo che ve lo tiene un po' più bloccato e non rischiate che scivola giù nel caso in cui invece il tronco è più grande che riuscite a comprimere a chiudere meglio a pressione qualsiasi punto va bene quindi eccolo qui poi eventualmente iscrivetevi sul canale instagram o tiktok e vi faccio vedere come come procede le radici una volta a fare le radici lo taglio lo vado a a pentare nel vaso se voi lo conoscevate fatemi sapere se lo avete fatto e se funzionava grazie a tutti